sinergia 2019 l'evento dedicato all'immobiliare dei servizi sono con Dario Castiglia presidente di Remax Italia Dario ciao un commento a caldo sull'evento allora come sempre un evento da qui non mancare penso l'unico del suo genere nel nostro mondo dell'intermediazione dove c'è ci sono tutte le novità che vengono da oltreoceano da altri paesi e quindi e soprattutto e anche dall'Italia ovviamente quindi tante tante nuove idee tante start up e tanti spunti di riflessione su quello che sarà il futuro del nostro del nostro mondo del mercato immobiliare e soprattutto il futuro della gente immobiliare e questo ci permette di ponderare su quelle che sono le scelte da fare per gruppi come il nostro che è formato appunto da agenti immobiliari e non c'è altra soluzione che abbracciare le tecnologie e cercare di rendere l'esperienza del consumatore sempre migliore ecco ti interrompo allora sull'esperienza del consumatore customer experience state facendo qualcosa di veramente interessante riesci in un minuto a condensare questa pillola per chi ci sta seguendo sì come ho detto grazie alla tecnologia stiamo cercando di sistemizzare quelli che sono i processi di lavoro quindi workflow come vengono chiamati in inglese dei nostri agenti per poter indirizzarli su degli standard elevati di servizio e quindi poter regalare al nostro cliente finale acquirente o venditore un'esperienza io dico stile amazon dove ovviamente si velocizzano i tempi di risposta a quella che è la domanda e l'offerta e si possa anche avere maggiore comodità diciamo nell'utilizzare i servizi delle agenzie immobiliari questa è la nostra risposta a quelle che possono essere le prop tech o le sfide della tecnologia grazie mille dario alla prossima ciao